Finalmente la piccola figura di Comenia appare a passo lento appoggiandosi al braccio del secondo pilota scende la scaletta. Poi in macchina fai quasi 100 metri che lo separano dalla dall'aerostazione. I militari questa volta cercano soltanto di proteggere. Un giovane legge il messaggio di Saluto. Sei l'Abramo del nostro tempo. Dall'esilio hai diretto il nostro popolo. Abbiamo perso molto sangue ma siamo pronti a darne ancora se sarà necessario. La vostra unità, risponde Komeini, ci ha fatto fare questo primo passo verso l'abitudine. Sono 1500 persone che rappresentano tutte le categorie, tutti gli strati sociali dell'Iran. È una rappresentanza eletta, scelta per rappresentare le varie componenti della società iraniana. Suori, eccolo, in viaggio verso il cimitero dei martiri, lo aspetta una folla immensa. Nessuno riesce a calcolarla. Due, quattro, cinque, sei milioni? È un popolo. Grazie a tutti.